Carissimi amici, benvenuti su Cultura Web TV. Sì, stiamo effettuando delle prove tecniche. Volevamo ricordarvi che tutti i venerdì alle ore 10 va in onda a pausa caffè, rubrica culturale dedicata all'arte e alla cultura, e il sabato dalle ore 22 la mucca pazza. Rubrica, trassatira e cultura. Oh, chiamate, eh? Ecco fatto.